Nel regno di Dor, la zuppa aveva grande importanza. Io la fiuto! Le venne dedicato un giorno speciale, di grande esultanza. Voilà! Ma una volta un ratto finì in una fondina di porcellana. Oh, vostra maestà! E ciò causò la morte prematura della sovrana. Il re addolorato dichiarò la zuppa proibita. I ratti fuori legge. Prendete quel ratto! E la loro specie, bandita. Sulla città calò un buio terribile. Niente più pioggia, niente sole. Un'atmosfera invivibile. Credi che ci sia un po' di luce da qualche parte nel mondo? Ma là, sotto al castello, un bel giorno spuntò dal profondo. Un eroe di nome... Despero? Caspita, quanto è piccino! E guardate che orecchie! Era diverso dagli altri. Era molto valoroso. Ha disegnato un gatto sul quaderno. L'ha chiamato Piumino. Presto i topi capirono che fra tutti era il più coraggioso. Un giorno Giro vagava per esplorare il castello. Era in cerca d'avventura. Sei un ratto? No. Un topo? Io sono un gentiluomo. Ma trovò qualcosa di più bello. Scommetto che lo dici a tutte le principesse. Non puoi parlare a un essere umano. Ti getteranno nelle segrete e verrai mangiato dai ratti. Quest'anno... Prendete la principessa! Nel momento del pericolo... Quando tutto sembrerà andar male... Qualcuno mi aiuti! Non puoi fare questo! Ascolta la storia... I ratti hanno preso la principessa! ...di un topo eccezionale. Arrivo! Universal Pictures presenta... Tratto da un amatissimo best-seller... Desperò? Dov'è? Uno splendido film d'animazione. Sei un uomo? O sei un topo? Io sono un gentiluomo. Un topino... Andiamo! ...che potrebbe essere di esempio al mondo. Le avventure del topino Desperò. Forza! Prova ad avere coraggio! Desperò Andiamo! Grazie.